Da 1000 euro si è passati a 10.000, da 2000 euro di energia elettrica, di gas, da 2000 euro si è passati a 6-7.000 euro, quindi l'aumento è stato sproporzionato. Prezzi alle stelle e aiuti statali non ancora stabiliti, anche i ristoratori sono alle prese con il caro bollette che sta incidendo pesantemente sui fatturati. Il presidente dell'associazione Ristoratori di Confcommercio di Pesero e Urbino, Mario Di Remigio, parla di mancanza di redditività a causa di rincari di luce gas che si sommano a quelli delle materie prime. Si salva soltanto chi è riuscito a bloccare i prezzi entro la primavera. Per chi non ha bloccato il prezzo, negli ultimi tre mesi si è raddoppiato, si è non triplicato il prezzo sia del gas che dell'energia elettrica. E questo ha fatto sì che in qualche modo alla fine la marginalità dell'attività fosse sparita proprio per, cioè lavorato per pagare le bollette. E questo purtroppo è un peccato, perché diciamo che noi quest'anno dobbiamo ripagare i debiti progressi che la pandemia è stata, praticamente abbiamo subito. Quindi per andare avanti abbiamo dovuto ricorrere ai finanziamenti muti e quindi diciamo che tra i debiti progressi e la non marginalità per molti sarà un inverno duro. Addirittura per cercare di contenere i consumi energetici qualche ristoratore sta pensando di tenere aperta l'attività solo nei fine settimana. Per molti soprattutto, ripeto, nell'entroterra in cui i flussi di gente non sono così importanti, per molti è fondamentale essere aperto quanto c'è gente. Quindi diciamo che si ricorre a venerdì, sabato e domenica, anche perché se prima non c'era gente ma magari provavi a stare aperto, adesso col caro energia bisognerebbe fare due conti se vale la pena veramente essere aperti o aprire solo esclusivamente quanto sei consapevole di lavorare.